Buongiorno a tutti i miei amici che sono venuti intorno a misura per l'elaborazione di tutti i fissi di Puglione. Ci siamo inaugurati in questi giorni dopo la tragedia che è accaduta qui nella vicina Aguila e ci ha visto anche a noi, in curiosa situazione del Puglione Puglione, andare nella zona per stare al nostro contributo. Un minuto di Firenze per il 257 morti si dovessero trovare la zona per l'Arna. Grazie a tutti.